Allora, vediamo un po' cosa ci propone oggi Officine Nuccio iPad, è un dispositivo portatile, può essere tenuto a casa, può essere installato in macchina Bene, ma che ci facciamo con l'iPad in macchina? Con l'iPad in macchina che ci si fa? Niente, giusto Per installarlo in macchina abbiamo bisogno di un dispositivo stabile Certo Possibilmente Uno slot per metterlo dentro Esattamente, la sdlitta Noi abbiamo realizzato una sdlitta Ah, la sdlitta è questa qua praticamente, bene E' azionata Ah, c'è un'applicazione Mamma mia, con il Wi-Fi quindi Esattamente Ah Questa applicazione consente la sdlitta da fuori uscita Bene A questo punto inserisco, addirittura ci sono le sicurezze Che impediscono... Che impediscono un malfunzionamento, perfetto A questo punto io posso rinserire il sistema Ok Ah, quindi si schiacci e entra dentro Cambia lo stato di visualizzazione Certo A questo momento in poi è operativo Posso fare qualsiasi cosa Bene, allora io passo di là e mi fa vedere Allora Bene E' un iPad Sì, volume basso perché la camera dopo... E' un iPad Abbiamo diverse applicazioni Certo Naturalmente possiamo scegliere un film Esatto Perché no? Così come possiamo scegliere Il sistema di indicazione Possiamo navigare internet Ah beh certo Qui in questo momento non abbiamo wifi Naturalmente noi possiamo operare Possiamo operare Anche con l'applicazione sull'iPhone Bene Naturalmente è la stessa procedura di prima Noi con questa applicazione qua Possiamo aprire il sistema Ah, e quindi puoi rimuovere? Esattamente Beh è stato fatto proprio giusto 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 Perché entra proprio come un guanto Giusto Proprio calza come un guanto Perché poi se no vibrerebbe Quindi è stato fatto tutto opposto Esattamente Noi l'abbiamo tolto Rilanciamo l'applicazione Ufficine Nuccio Certo E facciamo rinserire la stritta E possiamo tornare a casa con il nostro iPad Benissimo